Scusa, aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa ha di tanto male? D'accordo. Provare a fare un remake live action di un film animato è come cercare di raccontare a qualcuno il sogno che hai fatto la notte prima. La magia è impossibile da rendere, non può funzionare. Ok, quindi tu pensi che non abbia alcun valore prendere una storia e raccontarla in due modi diversi? Te ne fai di una versione live action quando l'interpretazione animata è sempre e comunque molto più bella e trasmette ciò che la realtà non sa stare. Stai dicendo che non c'è nessun remake live action di un film d'animazione che sia altrettanto o un po' più bello dell'originale? Allora, dimmi quale? Tartarughe ninja alla riscossa! Boom! Del 2014. No, non quello, quello del 90. Ce ne sono altri comunque, potrei dirne altri. Dimmeli, ti prego. Se avessi i miei appunti sui film. Ok.